ciao grandissimi sono Nidro ragazzi e oggi portatevi questo nuovo video oggi ragazzi vi porto un easter egg su Assassin's Creed Syndicate più precisamente ragazzi riguarda casa Kenway infatti ragazzi sia all'interno di una missione nel gioco che vi lascerò qualche stralcio qualche pezzo qua sotto nel video sia successivamente potremo visitare proprio l'abitazione della famiglia Kenway in cui ragazzi potremo trovare sicuramente alcuni easter egg, alcuni riferimenti ai vari capitoli comunque la famiglia Kenway cosa molto interessante ragazzi come potete vedere nella missione principale del gioco sarà possibile visitare diciamo lo studio della famiglia Kenway e soprattutto anche il sotterreno diciamo che si trova proprio sotto questo studio di Kenway dove potremo trovare molti riferimenti a Assassin's Creed Black Flag tra cui anche il timone della nave e poi abbiamo trovato alcune informazioni riguardanti il frutto dell'Eden però sotto qua proprio uno spoiler gigantesco comunque ragazzi anche all'interno di Girando per la casa possiamo trovare tantissimi altri riferimenti a Assassin's Creed Black Flag tra cui a parte la presenza di alcuni modellini di navi ma anche una mappa che è la stessa ragazzi la mappa dei Caraibi che tra l'altro è la stessa che tutti coloro che hanno prenotato il gioco come me l'hanno trovata all'interno della custodia della confezione Assassin's Creed 4 Black Flag io ce l'ho appesa qua davanti mentre registro il video è proprio la stessa indica mappa che quindi rappresenta all'interno della confezione poi come ho detto all'interno di questa stanza sotterranea che potremo poi visitare con Heavey e Henry Green troveremo tantissimi altri riferimenti al capitolo quindi un'estraga molto interessante e davvero bello riguardante proprio la famiglia Kenway proprio questa possibilità di poter visitarla a casa comunque tutte le cose che ho visto riguardante la famiglia Kenway tutti questi easter egg, tutti questi riferimenti ai capitoli precedenti o comunque questa famiglia li avete visti qua sotto nel video quando visiterò diciamo l'ufficio segreto dei Kenway diciamo ok ragazzi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto e interessato noi ci vediamo presto con un prossimo video mi lasciami un piaccio, commento e in descrizione bella raga al prossimo video ciao 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 ciao